Andiamo a vedere come Simione cerca di impensierire la difesa rosso-blu. Dovrebbe essere il 4-3-3 che ci ha anticipato proprio Marco Carli e allora 4-3-3 che vede Bergessio molto largo a sinistra, Gomez nel suo solito ruolo sulla destra e Maxi Lopez unica punta. Attenzione perché ci saranno i movimenti verso il centro di Gomez che cercherà di portarsi a spasso-criscito che potrebbe seguirlo proprio in traiettoria e questo potrebbe favorire ti dico gli inserimenti di Ledesma proprio sulla destra senza palla o col pallone per suggerire dei cross importanti a Maxi Lopez. Attenzione perché un altro ruolo importante ce l'ha il signor Lodi che giocherà da mezzala a sinistra ma sarà pronto per aggredire lo spazio centrale sia per suggerire Maxi Lopez e sia per fare male dal limite dell'aria proprio per sfruttare il suo tiro importante. Lodi che in fase di non possesso potrebbe anche allargarsi molto per cercare di chiudere Rossi e Messo sulla catena di sinistra in quel caso Gomez si abbasserà sulla destra e il Catania potrebbe difendere anche con un 4-4-2 con Ledesma e Carboni che saranno molto vicini in non possesso. Attenzione perché l'evoluzione del Catania Umberto potrebbe essere proprio questa cioè con Gomez che si porta a spasso-criscito e fa il trequartista puro con l'accentramento proprio di Bergessio e di Maxi Lopez che si possono scambiare la posizione e sfruttare i tagli in diagonale l'uno nei confronti dell'altro per non dare punti di riferimento a una difesa del Genova che spesso potrebbe essere presa a tre perché Messo scende spesso a supportare Rossi e dunque potrebbe verificarsi per il Catania un 3-3. Ma Catania che alla lunga ti devo dire potrebbe anche giocare con questo schema con l'entrata di Schelotto che potrebbe offendere sul lato di destra, Gomez si potrebbe spostare a sinistra e in quel caso il Catania potrebbe giocare con un 4-4-2 classico con l'Odi ancora più libero di aggredire lo spazio centrale per esaltare le due punte. Andiamo col Genova velocemente, lo vediamo, Genova che invece dovrebbe giocare con il 4-4-2 però attenzione, è un modulo molto d'utile perché in fase di possesso Messo scende molto e Messo cercherà di supportare proprio Rossi che cercherà sempre di accentrarsi e quindi è un Genova che in fase di possesso sfrutta molto il 3-4-3. Lo stesso dicasi per Antonelli che ha una buona tradizione contro il Catania, addirittura da Cosenza-Catania, stiamo parlando della stagione 2002-2003 dove lui era un giocatore molto molto giovane nelle file del Cosenza. Attenzione a Palacio e Floro Flores perché Palacio non dà punti di riferimento e si allarga molto sulla sinistra per sfruttare i cross proprio per Floro Flores che aggredisce spesso il primo palo, importante sarà questo signore, il signor Carboni che dovrà dare aiuto al centro della difesa sia a Silvestre che a Augustin quando uno dei due attaccanti viene a prendersi palla e cerca di cuscire con il centrocampo. Questo è il Catania.